Il lombrico Di colore rosso-grigio, noto anche come lo strisciatore notturno, è un animale piuttosto noto a chi ha un giardino o va a pesca. Lungo 7-8 cm ha il corpo suddiviso in segmenti, ricoperto da piccole setole che gli permettono di muoversi e di scavare nel terreno. Ed è proprio questa sua intensa attività di scavatore che lo rende così utile. Scavando e scavando, rimescola il terriccio, ne ridistribuisce le sostanze nutritive e lo rende fertile. Per questa sua intensa attività di scavatore, il lombrico è perennemente affamato. In un giorno può arrivare a mangiare un terzo del suo peso, altro che dieta. Ma il mangione può anche essere mangiato. Il lombrico, infatti, è l'esca per eccellenza. Tutti i pesci ne vanno matti, senza distinzione alcuna. Posso fare qualcosa per te? Mangiami! Con i fide alla mia agonia! No! Non voglio essere mangiato! Non voglio essere mangiare un bel bello! L'ombrino Ship notturno Nella raccolta di novelle del XIII secolo, chiamata appunto Il Novellino, si racconta che Ezzelino III, da romano detto Il Terribile, soffrendo gravemente di insonnia, avesse assunto un novellatore personale per intrattenerlo durante le notti in bianco, narrando gli storie. Purtroppo però, il novellatore, a differenza del padrone, aveva sempre un sonno tremendo. Così, una sera, gli narrò di un pastore, che con il suo grande gregge si trovava sulla riva di un fiume. Dovendo traghettare l'intero gregge sull'altra sponda, si servì di un traghettatore e di una piccolissima barca, che poteva contenere al massimo una pecora. Il traghettatore caricò la prima pecora e la scaricò sulla riva opposta. Tornò indietro, caricò la seconda pecora e la scaricò sulla riva opposta. Tornò indietro, caricò la terza pecora e, all'improvviso, il novellatore taccò. E Zelino, spazientito, lo sollecitò a continuare. Ma lui, serissimo, rispose, Signore, dobbiamo prima farle passare tutte. Il terribile, miracolosamente, si mise a ridere e per quella sera il novellatore poté finalmente andare a dormire a un'ora decente. Una pecora, due pecore, tre pecore, quattro pecore. I limuli Il limulo è chiamato anche granchio atlantico a ferro di cavallo, ma è più strettamente imparentato con ragni e scorpioni, piuttosto che con i veri e propri granchi. Un enorme scorpione marino, lungo 60 centimetri, pesante 5 chili e con ben nove occhi, che gli sono valsi in premio Nobel. Il limulo è un animale nobile. Il suo sangue, infatti, a contatto con l'aria, diventa blu. Per ricostruire il suo albero genealogico, bisogna andare molto, molto indietro. I limuli, infatti, popolano i fondali marini da milioni e milioni di anni. Immutati, praticamente, è un fossile vivente. Ma non soffre certo di solitudine. Sul suo carapace vive una moltitudine di piccoli organismi, alghe e conchiglie. Insomma, un piccolo laboratorio di biologia. Un piccolo laboratorio di biologia. Il lupo Chi ha paura del lupo? Di certo, tutti i personaggi delle favole. I tre porcellini, il cappuccetto rosso e l'agnello di esopo. Fin dall'antichità, il lupo è stato considerato un animale feroce e ostile, e per questo cacciato. Nell'Ottocento, Carlo Magno istituì una guardia armata per la caccia al lupo. E qual è il risultato? Che il lupo oggi è quasi del tutto estinto. Estinto La capra La capra è uno dei primi animali a essere stato addomesticato. Nonostante l'ingrato stereotipo stupido come una capra, è intelligente, è curiosa e si adatta a qualsiasi condizione di allevamento. Le capre parlano il dialetto. Ogni capra, dalla più tenera età, impara l'accento del gruppo di appartenenza. E se una capra viene messa in un altro gruppo? Beh, ci possono essere delle incomprensioni. Una cosa che alcune capre non hanno invece imparato a fare è gestire la paura. A causa di una disfunzione genetica, se spaventate, si accasciano al suolo, a gambe dritte. Per fortuna dura solo pochi secondi e poi ritornano in piedi. Per fortuna dura solo pochi secondi e poi ritornano in piedi. Drosofila melanogaster La drosofila è un insetto di piccole dimensioni, più comunemente noto come moscerillo della frutta. Vi potreste immaginare che la sua esistenza sia piuttosto tranquilla, Quali turbamenti potrà mai avere un moscerino? Invece, un recente studio apparso su Science racconta che i giovani moscerini rifiutati dalla compagna affogano i loro dispiaceri nell'alcol. Proprio così, dopo un patimento amoroso, il moscerino rifiuta il suo pasto abituale, preferendo farsi un goccetto. La medusa La medusa si è evoluta per la vita di mare, al punto stesso che il suo corpo è composto dal 98% di acqua. Praticamente, la medusa stessa è parte del mare, acqua di mare organizzata. Quando, con la sua forma soffice, fluttua nelle correnti, emana un fascino ipnotico. Fascino accresciuto da una delle caratteristiche più sorprendenti della medusa, la bioluminescenza. Molte meduse, infatti, emettono spontaneamente luce. Blu, verde, azzurra. Questa permette loro di comunicare con gli altri esseri marini. Se pensiamo all'abbondanza di forme di vita negli oceani, questo è il linguaggio più diffuso nel pianeta. Ma la luminescenza non viene utilizzata solo per piacevoli chiacchierate. Se attaccati, alcuni animali cercano di confondere il predatore con un'incandescenza repentina, come un flash in piena faccia. Altri illuminano il predatore, nella speranza che un predatore più grosso accorra per mangiarsi il primo. Il più tremulo bagliore di un attimo nel buio marino può significare la vita o la morte. Il più semplice è un'incitore. Il più semplice è un'incitore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.